Andrea Sottil sarà il nuovo allenatore del Catania. È solo una questione di giorni, quelli necessari a chiudere il rapporto in modo consensuale con il Livorno. Il tecnico è ancora legato alla società toscana, potendo contare su un altro anno di contratto. Ma il richiamo di Pietro Lomonaco è stato troppo forte, complice anche l'opportunità di rientrare in Sicilia, dove vive la sua famiglia. Il Catania è Andrea Sottil, un amore che si rinnova. Tra qualche giorno si parla di giovedì e atteso l'annuncio ufficiale da parte della società rossa-azzurra. Manca dunque solo il tempo necessario per definire i dettagli della risoluzione contrattuale con il Livorno, operazione che in queste ore sta seguendo il suo legale. La notizia rimbalza con decisione a poche ore dal congedo di Cristiano Lucarelli, che ha salutato i tifosi del Catania dopo la risoluzione consensuale con il club di Torre del Grifo. Grazie di cuore a tutti, ha affermato il tecnico. Dispiace non avervi dato la B, non l'ho mai fatto prima perché non sono un ruffiano, ma ora che si interrompe il rapporto sento di dirvi che vi ho voluto bene ed è stato un onore lottare al vostro fianco.